Ciao a tutti! Oggi prepareremo le stelle filanti di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoni tagliate a fettine, zucchine tagliate a fettine, carote tagliate a fettine, acqua, sale, per la salsa, yogurt greco, maionese, succo di limone, sale, pepe ed erbe aromatiche. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le verdure, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le verdure sono cotte, posizionarle in un piatto da portata e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere adesso lo yogurt. la maionese, le erbe aromatiche, il succo di limone, il pepe ed il sale. ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. la salsa è pronta, servire le verdure accompagnandole con la salsa. Stelle filanti di verdure, grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!